Sono un militante del centro-sinistra da metà degli anni settanta. Ho avuto la fortuna di guidare per cinque anni una coalizione di centro-sinistra. Non potevo non essere qui accanto e con il popolo del centro-sinistra e donne e gli uomini per sostenere Alessio D'Amato, tutte le liste e tutti i candidati. È una sfida importante, soprattutto in questo momento per il nostro paese. Vabbè era stata la prima volta in cui ero presente? Devo dire, poiché sono stato a fare il vostro lavoro per sei anni in Medio Oriente, da tredici anni non ero partecipato a alcuni eventi, ma è questa la prima volta. Penso che è il momento giusto, ognuno deve dare il suo contributo. Perché se la sfida è un po' impossibile, la sfida è un po' impossibile. Beh, se vi ricordate, quando iniziai la campagna elettorale, l'avversario era storace, noi stavamo sotto di 15 punti. Li rimontammo e superammo di tre. Perché non dobbiamo farlo con D'Amato? D'Amato ha unito il centro-sinistra. E al centro-destra che dice chiudiamo la stagione di Zingaretti, ma anche di Marrazzo, no? La grande stagione del centro-sinistra. Io penso che è stata una grande stagione che viene ancora più da lontano e questo è sicuramente il momento nel quale al populismo e al sovranismo bisogna dire noi siamo per la politica. La politica significa da un lato valori condivisi, e questo non lo sento dire da molto tempo. Noi abbiamo la Costituzione e non parliamo di valori condivisi. Al centro-destra dico che per noi sono avversari, avversari che continuiamo a considerare non adatti per governare il Lazio e questa città. I 5 Stelle invece cosa si sente di dire? I 5 Stelle hanno fatto una scelta, se vogliono stare nel centro-sinistra devono stare nel centro-sinistra e devono sforzarsi insieme a tutti gli altri di trovare l'unità, così il centro-sinistra può vincere. Senta che qualche campagna elettorale l'ha fatta, che effetto le fa vedere D'Amato di fatto lasciato solo dai bigli? Posso dire la verità, è bello vedere chi ha governato, chi è stato in campo rispetto a una grande e drammatica situazione quale quella del Covid e dimostra che si può fare politica nello stesso tempo mai dimenticandosi dei cittadini. A lui c'è stato. Se li aspettava i candidati alla Secretaria del PD chiudere con D'Amato? Beh, io me lo aspettavo e lo desideravo.